A breve inizierà la demolizione di Villa San Pietro, oggi clinica per la riabilitazione psicosociale, ma fra qualche tempo centro residenziale e commerciale situato in pieno centro di Arco. Fabio Zanetti, capofila dell'operazione immobiliare, nella mattinata di ieri ha dato corso ai lavori di affissione del cartellone pubblicitario. Villa San Pietro, uno smeraldo nel cuore della città, recita il manifesto, per investire sul futuro di Arco. Il progetto, che è nato nel 2011 con il concorso di idee promosse dalla società guidata da Zanetti, passato al vaglio della Commissione Tutela del Paesaggio e dell'edilizia e urbanistica del Comune, fino ad ottenere l'approvazione del Consiglio Comunale, per alzare a quattro piani i tre edifici che sorgeranno in posizione più arretrata rispetto a quella attuale fronte strada. Questa concessione volumetrica è stata concessa grazie al risparmio energetico promosso dalla struttura. Nell'operazione sono inseriti anche alcuni interventi di riqualificazione urbana, compreso il camminamento, che collegherà il centro storico alla passerella ciclopedonale dell'oratorio ed un ufficio di 75 metri quadri che sarà ceduto gratuitamente al Comune. I lavori dovrebbero prendere il via nel corso di quest'anno, anche se molto dipenderà dalla data di trasloco della casa di cura nella nuova sede che sta sorgendo a Caneve, al fianco del parcheggio di assestamento. L'ormai ex Villa San Pietro lascerà spazio alla nuova edificazione con tanto di bosco verticale creato sulla facciata più esposta.